E quante cazzo meno brelliamo? Perché sta in una partita che la Juventus brilla? Quante meno brilliamo? Brilla meglio? Brilla meglio Buon pomeriggio fratelli e sorelle bianconeri, è finita da poco, da poco, però appena fischiato ragazzi l'arbitro, pronta era, la Juventus batte 2 a 1 il Venezia, anzi pardon, il Real Venezia perché oggi anche il Venezia ci è venuto a palleggiare in faccia doppietta di Bonucci ragazzi, che festeggia meglio il suo 35esimo compleanno nell'intermezzo il gol di Aramu ragazzi, pareggio che è durato sì o no 3 minuti scarsi del Venezia con la Juventus che dopo si è riportata subito in vantaggio e che vi devo dire ragazzi, classica partita della Juventus, ormai non c'è neanche più da meravigliarsi partita bruttissima ragazzi, la Juventus fondamentalmente era partita pure bene i primi 10 minuti nella quale è riuscito a trovare il gol col Bonucci proprio, sfruttando una sponda di Vlaovic e poi come al solito, spegne l'interruttore e fa giocare il Venezia che già nel primo tempo era andata vicinissimo al gol del pareggio, con un colpo di testa di Harry che è uscito veramente di pochissimo al lato di Scezni, non ci sarebbe mai arrivato secondo tempo ragazzi, letteralmente meglio il Venezia, letteralmente meglio il Venezia che ci è andato vicinissimo per due volte consecutive con Aramu, autore poi del gol dell'1-1 e Aramu ragazzi al secondo gol in campionato e indominate tutti e due che li ha fatti esattamente proprio contro di noi, Aramu non segnava dalla partita proprio di andata contro la Juventus, gol dell'1-1 che poi valsi il pareggio finale e quindi stavo dicendo, è andato vicinissimo ragazzi, prima sul calcio di punizione parato da Scezni, poi dopo un paio di minuti per un tiro leggermente alto che è uscito di poche e poi ha trovato il gol del pareggio, gol fantastico e meritato fino al momento ragazzi e poi ripeto, Bonucci ha riportato nuovamente la Juventus in vantaggio sfruttando anche un colpo di testa di Danito, palla che gli è carambolata addosso e che è andata dentro quindi anche un gol molto molto fortuito partita di merda della Juventus ragazzi, quel che mi verrebbe da dire è salvate il soldato Vlaovic ragazzi, Vlaovic è letteralmente distrutto psicologicamente Allegri questo ragazzo lo ha distrutto ma non avete visto quando è uscito Vlaovic ragazzi quando ha dato, diciamo, non che ha dato il 5 da Allegri, ha fatto l'abbraccio così e poi avete visto come ha fatto? Ha fatto così cioè Vlaovic, era la sua faccia, era tutto un programma e ovviamente ragazzi ho letto già commenti negativi su Vlaovic mi sto ricredendo su Vlaovic e questo sarebbe mister 90 milioni di euro e io lo sapevo che andava a finire così ragazzi, io lo sapevo che andava a finire così io lo sapevo che il capo espiatorio d'ora in poi sarebbe diventato Vlaovic perché adesso ragazzi Di Bala siccome non rinnoverà con la Juventus e andrà via a parametro zero e adesso dobbiamo cercare un nuovo Di Bala alias un nuovo capo espiatorio mica si può criticare Allegri, che Allegri l'ha proprio distrutto il morale di Vlaovic è sotto i piedi proprio, non a terra, proprio sotto i piedi il morale di Vlaovic sotto terra è il morale di Vlaovic, l'ha proprio distrutto perché ragazzi Vlaovic che mi sbaglia gli appoggia a un metro di distanza appoggia a un metro di distanza che quello quando stava a Firenze gli faceva glocchi chiusi è proprio cool, vi fa capire mentalmente come sta quel ragazzo lì ovviamente mica si può dare la colpa da Allegri no, no, è Vlaovic che deve no, mica si può dare la colpa da Allegri che Vlaovic deve è lui che dice no, ma lui deve sbattersi, deve soffrire, deve lottare solo a Juventus, solo a Allegri fa questi tipi di pensieri qua eppure io non vedo che all'Inter, Dzeko o Immobile o quelli qui là si sbattono, facciano, dicono, si trova in dall'area di Goro, tira e segnano solo da noi, un jugatore, l'attaccante si deve soffrire, si deve sbattere deve fare quello, deve fare quell'altro il cambio finale, poi la ciliegina sulla torta ragazzi sostituisce Vlaovic che ovviamente purtroppo purtroppo ragazzi è stato il peggiore in campo per mettere Chiellini perché ci dobbiamo difendere contro il Real Venezia hai visto mai che il Real Venezia viene a fare il forcing finale e magari ci trova pure il gol del pareggio e questa la chiamano mentalità vincente ragazzi alcuni, e ce ne sono tanti, fidatevi questa la chiamano mentalità vincente mica mentalità di cagarsi addosso comunque ragazzi, detto questo non mi voglio spendere più di tanto ho fame, vado a pranzare vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti una buona domenica e sempre forza Iwe ma altro schifo anche oggi grazie